Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, quest'oggi parliamo di iRacing e del succoso aggiornamento che arriverà con la Season 1 del 2025. Questa prossima build sarà disponibile martedì 10 dicembre 2024 con una stagione speciale che estende la stagione 4 di quest'ultimo quest'anno a 13 settimane allineando il calendario alla stagione 1 del 2025. Ma vediamo insieme le novità principali che saranno presentate con questo mega aggiornamento. Come di consenso ragazzi iRacing propone sempre auto nuove e questa volta ben 5 parliamo della Supercars Chevrolet Camaro Gen 3 e Supercars Ford Mustang Generazione 3. Queste nuove Supercars sono state sviluppate in stretta collaborazione con i team di Supercars Chevrolet e Ford. Sono costruite da zero utilizzando i modelli fisici e pneumatici più recenti di iRacing e offriranno una fedeltà grafica eccezionale secondo il CEO di iRacing. iRacing inoltre emetterà dei crediti a coloro che hanno già acquistato la Ford Mustang GT e la Holden ZB Commodore Supercars nei 365 giorni precedenti al rilascio di queste nuove vetture. Al fine di mitigare l'impatto sui recenti acquirenti è normale io acquisto quelle macchine lì poi tu me la rinnovi ovviamente io mi incazzo è normale quindi emetteranno ovviamente un credito in base alla data cioè se l'hai preso un mese fa magari ti do il 95% se l'hai preso un anno fa ti do il 2-3%. E quindi queste vecchie saranno considerate come auto come contenuto legacy e quindi rimosse dall'uso nelle serie di corse ufficiali. arriva anche la BMW M2 CSR questa è una vettura basata sul motore club sport da 365 cavalli ed offrirà una sfida leggermente superiore rispetto alle tradizionali auto sportive per principianti. La M2 offrirà un aumento significativo di potenza e combinato con il suo passo corto rappresenterà sicuramente un ottimo punto di passaggio tra le auto per principianti e le GT4. La BMW M2 CSR sarà offerta gratuitamente a tutti gli iRacer come contenuto di base e questo non è male ragazzi ogni tanto regalino va bene e in più aggiungeranno anche questa safety car iRacing BMW M2 alla loro flotta. arriva anche la Acura NSX GT3 EVO 22 con un motore da ben 520 cavalli da 3 litri e mezzo di OHC biturbo. La NSX ragazzi GT3 EVO 22 completerà la serie Endurance di iRacing come decima vettura GT3. sviluppata in collaborazione con Ferrari arriva anche finalmente la 499P e si unirà alla serie Endurance di iRacing insieme alla BMW M Hybrid V8, la Cadillac V Series RGTP, la Acura ARX 06 GTP e la Porsche 963 GTP in una serie Prototype Challenge riconfigurata. non possono mancare su iRacing con le nuove build i circuiti e iniziamo con Traxton Circuit che è definito il circuito più veloce del Regno Unito. Traxton è un tracciato di 3,79 km che ospita una varietà di competizioni reali come il LABTCC, il TCR UK e più recentemente anche il British F3 e British GT. Il team artistico di iRacing ha utilizzato la fotogrammetteria catturata da droni per ricreare il circuito con dettagli incredibili in tutto il paesaggio, inclusa una pista di atterraggio interna completamente percorribile. Arriva anche Husset Speedway, un ovale di terra battuta, situato a Brandon, South Dakota. Husset ha una lunga storia di corse risalente al 1953 ed è stato rinnovato nel 2020 con una nuova proprietà diventando protagonista nel circuito All Star. Husset Speedway sarà anche rilasciato come DLC pensate in World Outlaw Dirt Racing 24. Arriva anche l'aggiornamento del new Husset Fire Motor Speedway, infatti il team di iRacing lo sta portando agli standard attuali come parte di un'iniziativa per aggiornare tutti i circuiti NASCAR. Gli aggiornamenti saranno automatici e gratuiti per tutti coloro che possiedono ovviamente i circuiti. Arriva anche l'aggiornamento per il Las Vegas Motor Speedway, anche se probabilmente potrebbe saltare alla prossima build e non al rilascio di dicembre. La parte succulenta di questa build ragazzi sono le nuove funzionalità e i miglioramenti che stanno per arrivare su iRacing. Infatti il sistema di dinamica del tracciato, il DTD di iRacing, sarà migliorato per tracciare e renderizzare ghiaie e fango dinamici e per sporcare diciamo quelle aree del tracciato ricoperte da detriti. Le future evoluzioni del Briss Refresh porteranno le basi per ulteriori funzionalità legate agli pneumatici come danni da foratura. Arrivano anche miglioramenti nel campo dell'intelligenza artificiale, infatti la IA lampeggerà i fari in modo da essere diciamo più appropriato il modo in cui lo fanno durante le gare multiclasse. Questo ovviamente è un esempio che ci hanno portato in quello che è il dev blog di iRacing. Ovviamente questo sistema sarà ampliato in futuro per conferire all'intelligenza artificiale comportamenti ancora più distinti, più umani. Arrivano anche miglioramenti al modello pneumatico che offrirà una risposta più dinamica, migliorata e una degradazione più realistica. Sarà introdotto infatti un nuovo meccanismo di degradazione tra cui lo stato di condizionamento, lo chiamano così, a lungo termine. I nuovi pneumatici avranno anche mescole e strutture più realistiche. La nuova versione di questi pneumatici potrà essere già apprezzata con le classi GTP e LMP2 di questa build. Il team sta anche lavorando per introdurre questi pneumatici nella NASCAR Cup e successivamente in altre auto per gli ovali. Le pagine del Siris sono state ridisegnate e semplificate. La nuova pagina è più espandibile per funzionalità future e include anche link permanenti. Arriva anche il miglioramento al motore grafico. Viene rivisto il modello di illuminazione speculare che è stato migliorato per un risultato più realistico. Una specie di miglioramento come abbiamo visto con Raceroom. Non finisce qui ragazzi perché hanno presentato una nuova interfaccia grafica in fase test alpha e dovrebbe essere rilasciata a marzo perché vogliono essere sicuri, che sia stabile, funzionante eccetera. Quindi la nuova interfaccia offrirà un'esperienza familiare in termini di layout e una funzionalità con l'obiettivo di perfezionare l'esperienza essenziale di Air Racing aggiungendo alcuni miglioramenti mirati. Come ad esempio le black box invece di dover scorrere per avere tutte le informazioni potranno essere posizionate dove si vuole e aprirne più di una insieme. Telemetria in tempo reale durante la gara ed altre informazioni molto importanti. Infatti quando sarà rilasciata fornirà il framework per costruire ed espandere nuove funzionalità significative e personalizzazione e tanto altro ancora ragazzi, non è che hanno detto tutto. Il team grafico, attenzione, ha costruito un nuovo motore grafico internamente, cioè di proprietà ragazzi, proprio di base lo stanno completamente rivedendo e quindi questo miglioramento che abbiamo visto è per non lasciare i piloti di Air Racing senza miglioramenti grafici fino a che non verrà appunto proposto questo nuovo motore grafico. Però ragazzi, nuovo motore grafico, ci metteranno 7 anni, ma intanto ci stanno lavorando. Il team della fisica ragazzi stanno lavorando al miglioramento di nuovo del force feedback e allo sviluppo dei pneumatici in versione 10. Hanno sviluppato anche uno strumento migliore ed efficace per lo studio della dinamica dei veicoli tra cui un certo car builder e uno strumento di design of experiment che dà la possibilità di studiare i movimenti dinamici, i comportamenti, ma in modo molto rapido quindi riducendo i tempi di sviluppo. Finalmente parlano della modalità carriera per giocatore singolo infatti la prevedono di lanciarlo in due fasi prima con un campionato con l'intelligenza artificiale nel 2025 che serviranno come base per una carriera completa e successivamente poi lanceranno effettivamente la carriera in single play. Arriva anche l'implementazione di una serie di correzioni di bug relativa al controllo di gara, il race control e stanno lavorando a nuove funzionalità tra cui la migliore gestione delle partenze in gara multiclass e non solo. Arriva anche la possibilità ragazzi di salvare la partita diciamo durante il single player cosa che abbiamo visto, sono tutte cose ripetute che abbiamo già visto con altri titoli però arrivano anche sui racing e poi ragazzi arrivano il programma delle nuove auto in cui praticamente dichiarano di aggiungere auto stock di generazione 4 diversi produttori per la serie ARCA una riprogettazione completa delle legend qui si è raccontato il mio amico Nixos un nuovo modello di pneumatici per la NASCAR Cup come abbiamo detto e un aggiornamento della fisica per le IndyCar sono in corso ancora ulteriori collaborazioni con Ferrari quindi ragazzi fantastico e attualmente iRacing sta lavorando attivamente sul circuito di Portland International Raceway e sul circuito Miami International Autodrome e in più stanno anche pianificando la scansione digitale di Adelaide Street Circuit ragazzi siamo arrivati alla fine di tutte queste notizioni per quanto riguarda iRacing davvero tantissimi aggiornamenti, novità presentate come al solito di iRacing per questa nuova stagione che debutterà il 10 di dicembre prossimo ragazzi come al solito se vi è piaciuto questo aggiornamento pollice in su lasciate un commento e ditemi che cosa ne pensate e per chi me lo chiedesse dove è finita la 1.6 di Automobilista 2 boh non lo so da Fabrice è tutto, un abbraccio, ciao!